A un certo punto, perché comunque è stato 2-0, quindi... Però se sono riuscito a fare una grande partita, una buona partita è soprattutto merito dei miei compagni, perché non mi hanno mai fatto sentire un giocatore scarso o un giocatore che non sarebbe mai semplice. Quindi è merito loro che mi hanno sempre tenuto su, che mi hanno sempre fatto sentire importante e devo ringraziarli molto. Il mio piacere sempre è stato di rimanere qui, però avevo chiesto di essere mandato a giocare, perché comunque era difficile per me rimanere qui, sapendo che comunque ero più. Questa cosa non mi è andata via, sono rimasto senza piazzo, senza niente, sono rimasto contento. Se il mister Sardone mi ha dato l'occasione di scendere il campo, ho cercato di dare anche 100%. Se succederà, cercherò di dare sempre il mio meglio, se non succederà, pazienza. Sono l'ultima chiera assolutamente. È una bella squadra, è una squadra anche che è fastidiosa, perché giocano come si dovrebbe giocare in servizio secondo me. Aspettano e poi alla minima occasione ripartono subito con le due punte da davanti e sono lasciati un po' pronti per non farci male. Sono a Pisa, alla quinta giornale dell'età. Poi abbiamo giocato sabato e non lo so se riferisco per lui, sinceramente. Grazie.